Buongiorno, sono Valerio Gauer, ingegnere biomedico, lavoro alla direzione sviluppo e innovazione della Fondazione Dognocchi di Milano. La Fondazione Dognocchi è una delle più grandi realtà nell'ambito della riabilitazione in Italia e conta 28 centri in 9 diverse regioni italiane. Due di questi centri, quello di Milano e di Firenze, sono peraltro riconosciuti e accreditati come IRCS, quindi Istituto di Ricovere e Cura a carattere scientifico, e svolgono anche attività di ricerca e di innovazione. Il progetto di teleriabilitazione nasce con l'obiettivo di verificare la fattibilità concreta di poter erogare delle prestazioni di riabilitazione neuromotoria da remoto, supportati dall'utilizzo di tecnologie avanzate, e di poter verificare se è possibile andare a misurare l'impatto dei percorsi di riabilitazione attraverso l'utilizzo di device e sensori che vadano a integrare e supportare l'utilizzo di scale cliniche utilizzate nella pratica clinica tradizionale per rilevare gli esiti dei percorsi di riabilitazione. Il sistema costruito da Fondazione Don Gnocchi col supporto di alcuni partner tecnologici si compone di una postazione operatore, che di fatto è costituita da un computer con un monitor touchscreen, e da una postazione paziente che è un kit costituito da un mini computer, il sensore Kinect per la rilevazione del movimento, un modem per la connettività con una schedina SIM e una webcam per poter mettere in pratica la videocomunicazione tra il paziente e l'operatore. Il kit viene montato a casa del paziente, è collegato alla televisione che è già presente a casa del paziente e al momento prestabilito viene fatta partire da parte del terapista una videochiamata. Il paziente si deve limitare ad accendere il computer nell'orario prestabilito e dopodiché il terapista da remoto prende il controllo del sistema e può far partire il set di esercizi che vengono svolti da paziente in un ambiente di realtà virtuale, il paziente vede sul proprio monitor un avatar che può controllare con i movimenti e deve svolgere dei task proposti dal software sotto la diretta supervisione del terapista che è collegato in audio-video da remoto e quindi può guidare il paziente nell'esecuzione degli esercizi ed eventualmente correggere i movimenti se necessario. E' stato costruito un protocollo per la sperimentazione che prevedeva la valutazione dei criteri di inclusione, l'assessment iniziale, la valutazione tramite scale cliniche del performance del paziente, una formazione all'utilizzo del sistema per il paziente e per i caregiver, le sedute quotidiane e un assessment finale attraverso di nuovo la misura delle scale cliniche. Il sistema è stato sperimentato con il supporto di ATS Città Metropolitana di Milano che ha permesso l'erogazione di queste sedute di riabilitazione in regime di accreditamento e quindi rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale. E' stato sperimentato a partire dall'aprile del 2020 ed è ancora tuttora in corso di sperimentazione. Abbiamo fino ad oggi reclutato 28 pazienti ed erogato oltre 500 trattamenti di teleriabilitazione. I risultati preliminari mostrano un altissimo livello di compliance e di gradimento da parte dei pazienti misurato con la scala SUS, System Usability Scale, e anche le scale di valutazione clinica, i dati preliminari, mostrano un generale trend al miglioramento del performance del paziente. I pazienti in particolare mostrano di gradire molto l'utilizzo di questo sistema che gli ha permesso durante la fase del lockdown della pandemia di continuare i percorsi di riabilitazione che erano stati interrotti a causa della necessità di implementare il distanziamento sociale richiesto dalle condizioni di pandemia. Gli sviluppi futuri di questo sistema prevedono l'integrazione di altri sensori utili a monitorare per esempio i parametri vitali del paziente e la possibilità di andare a inserire questo tipo di servizio tra le unità di offerta della Fondazione Don Gnocchi. Vi ringrazio per la vostra attenzione e arrivederci.